A quanto pare Lady Susan verrà a trovarci. Lady Susan Vernon? Quella donna è il demonio. Felicitazioni, state per ricevere la più abile civetta di tutta l'Inghilterra. Mi spiace presentarmi in tal maniera. Che delizioso quadretto familiare. Mio cognato è un uomo molto ricco. Dalle difficoltà, si dice, nascano le opportunità. Sir James Martin. Enormemente ricco e sempliciotto. Ma che buffe, quante piccole palline verdi, come si chiamano? Piselli. Se mia figlia non fosse tanto babbea, sarebbero già fidanzati. Mammina, lo so che Sir James è un uomo gentile, ma un matrimonio dura per tutta la vita. Non per la mia esperienza. Posso presentare Lady Susan? Lieto di fare la vostra conoscenza. È attraente, non trovate? Attraente come un vitellino. Manering è in città. Avete visto mio marito? Una donna orribile. Una pazza. Se è così gelosa, non avrebbe dovuto sposare un uomo tanto affascinante. Questa donna ottiene sempre tutto. È inquietante quanto conosca bene la natura dell'uomo. Temo fortemente che Lady Susan Vernon possa distruggere la serenità delle nostre vite. Con piacere. Un vero maleducato. Avevate promesso di interrompere ogni contatto con questa donna. Che errore hai commesso a sposarlo. Troppo vecchio da governare. Troppo giovane per morire. Sono pochi gli attori in grado sia di farci morire dalle risate che di farci commuovere. Oggi ho per voi una classifica di attori rari esempi di campioni della comicità americana che nel corso della loro carriera hanno saputo anche farci emozionare e commuovere in ruoli drammatici. E apriamo la nostra classifica con John Goodman al sesto posto. Il simpatico attore lanciato dalla sitcom Pappa e Ciccia, noto pure per la parte del Fred Flintstone in carne e ossa nel film della Hanna Barbera, ha dimostrato che non è solo un attore comico, con le ottime performance in Come al di là della vita, di Scorsese, i cult movie dei fratelli Coen, Il Grande Le Boschi, Fratello Dove Sei, A proposito di Davis, o il film premio Oscar Argo di Ben Affleck. Al quinto posto c'è Bill Murray, diventato famoso grazie alle commedie come Palla da Golf, Ghostbusters o Rushmore, ha mostrato la sua vena da attore drammatico in Lost in Translation accanto a una giovanissima Scarlett Johansson. Al quarto posto abbiamo messo Zach Kalefianakis, L'ultimo fenomeno della comicità americana, consacratosi con la saga Una notte da leoni, ha subito dimostrato di non essere solo un animale da commedia, grazie alle sue interpretazioni molto convincenti in Cinque giorni fuori e addirittura quasi da Oscar in Birdman. Al terzo posto della nostra classifica c'è un attore che raramente viene associato ai ruoli drammatici, Steve Martin, è uno dei nomi storici della comicità americana, il protagonista di Roxanne, un biglietto in due, il padre della sposa, una scatenata d'ozina e tante e tante altre commedie di successo, ci ha concesso pochi ruoli drammatici, ma uno in particolare in Shop Girl, tra l'altro film basato sul libro scritto proprio dallo stesso autore, è straordinario, vi consiglio i libri di Steve Martin. Pochi sanno che oltre ad essere una star del cinema è anche un ottimo scrittore. Al secondo posto c'è un altro attore noto principalmente per le commedie molto leggere come 40 anni vergine e Un'impresa da Dio, e che recentemente è stato nominato agli Oscar come protagonista di uno dei film più scuri e drammatici dell'annata, Fox Catcher, una storia americana. Si tratta ovviamente di Steve Carell, un vero talento. Al primo posto non potevamo non premiare un'icona del cinema americano, Robin Williams, diventato famoso grazie alle interpretazioni comiche nelle serie Mork e Mindy, nei film Hook, Mrs. Doubtfire, al doppiaggio in Aladdin della Disney e tante e tante altre. Robin Williams ci ha regalato anche ruoli drammatici indimenticabili, come quello in Will Hunt, Ingegno Ribelle, L'attimo Fuggente, oppure Al di là dei sogni, la leggenda del rapiscatore, insomma un vero mito, non relegabile naturalmente a un solo genere. Bene, fatemi sapere se siete d'accordo con la nostra classifica e quali sono secondo voi i migliori ruoli degli attori comici nei film drammatici. Ci vediamo prestissimo con nuovi video. Ciao da Valeria